Continua anche a Teramo il problema legato all'emergenza abitativa. Una situazione molto delicata su cui il Sicet, Cisle, il sindacato degli inquilini è tornato nuovamente all'attacco per la questione relativa alle due donne, madre e figlia, che do oramai mesi dopo lo sfratto sono costrette a vivere alla giornata, appoggiandosi qua e là da amici e parenti. Una condizione di precarietà che però da alcuni giorni, nonostante il freddo, le ha portate nuovamente a dormire in macchina per mancanza di un posto. Una situazione su cui il Comune ha annunciato di essere al lavoro per trovare soluzioni non solo per il problema relativo alle due donne, ma per tutti quelli che si trovano nella stessa condizione. Stiamo andando oltre le nostre competenze, cercando di dare una risposta a situazioni che non abbiamo creato, talvolta anche determinate da una gestione sbagliata delle pratiche e delle procedure, ma questo ovviamente non è nostra competenza. Stiamo dando una risposta forte rispetto all'emergenza abitativa, come mai in passato. Abbiamo sbloccato dopo sette anni il bando per l'emergenza abitativa, che era fermo dal 2012. Sui tavoli istituzionali stiamo portando la voce e le istanze delle persone più in difficoltà per l'esercizio del diritto alla casa. Ieri siamo riusciti a sventare, almeno temporaneamente, una serie di ulteriori sfratti, proprio perché l'emergenza abitativa sta veramente toccando delle soglie altissime. Stiamo trattando i singoli casi specifici, eccezionali, nel pieno rispetto della legge e soprattutto nel pieno rispetto dell'equità sociale nei confronti di tutti. Quindi, assolutamente, mai come oggi l'amministrazione comunale è in prima, primissima linea per affrontare l'emergenza abitativa. Lunedì si riunirà l'osservatorio per il diritto alla casa insieme allo sportello sociale, che ringraziamo per il supporto che sta dando ai cittadini in modo molto, diciamo così, equilibrato e soprattutto dando una risposta a tutti senza inseguire questo o quel caso, che è quello che stiamo facendo noi. Sulle singole questioni specifiche stiamo dando risposte puntuali, ovviamente nel rispetto dei tempi che la legge prevede e nel rispetto di tutte le esigenze.